Ok, se non mi vedete non è culpa mia, è uno stupido video, pochissima luce, molto bene, che disagio, mettiamoci la siera, mamma mia, non so se l'avete sentito ma mi sono scocchiata, mi dice molto male, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, allora, incendiamo sta caspita di luce, molto bene appoggiamovi ok questo video si fa da bene in peggio ok, allora se morite non è colpa mia veramente giuro perché mi è caldo? i capelli ho un paio di luci oddio alla fine non cambiano niente vabbè oh mio dio oh mio god ok ora la youtuber professionista lo so che non è niente il mio genere di video mai ma voglio provarci e anche se non mi escono bene un po' ci provo anche se non sono come Greta Menchi CV Show Me Contrateo Lella 2000 o alberico de Giglio Virginia de Giglio cosa è così non sono un'esperta di video ma ci provo già il mio obiettivo l'obiettivo è raggiungere i 100.000 iscritti anche se non ci arriverò mai però dai cercare intanto mi è arrivato sto cavolo di ciondolo molto bello di Soy Luna come avete potuto notare ma oggi vi faccio vedere come fare la cioccolata calda la cosa migliorerà la mia stanza e vabbè è un video diciamo un altro video speciale perché l'ultimo video speciale faceva schifo alla fine mi si è finito quindi non era nemmeno un video speciale ma questo sarà un video speciale Raissa Happy no meglio non li copiare nessuno ti può fare swoosh benvenuti su MBG mai e poi non perché MBG? perché MBG? MB Raissa yes ma nemmeno MB Raissa quindi lasciamo MBG e MB Raissa e tutti MB a Greta Menchi e poi andiamo alla mia intro ok ciao a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video ok lo usano tutti la usano tutti prima Happy poi Sad va bene non sono fantasiosa per niente sono il 17 e 40 45 le 17 e 45 aspetta non sono le 17 e 45 sono le 16 e 45 allora st'orologio si deve regolare abbiamo cambiato il radio stupido l'orologio perché non si cambia solo quando mi metterò la sveglia alle 7 e mezza mi svegliano alle 6 e mezza meglio lavare la sveglia no aspetta come cazzo come direva così l'ho aggiunta no ecco questo video allora di disagio completo è durato 4 minuti e 45 e qualcosa di secondi e 45 e qualcosa e purtroppo è solo un disagio di video quindi vabbè e questo è una cosa molto figa che ho fatto con alcuni stickers un semplice sbianchino e una matita una gomma e due evidenziatori questa è la mia opera d'arte che lasciamo al passato ma ora andiamo a fare la nostra cioccolata calda molto disagiata paparabam eccoci in cucina la mia cucina è grandissima guardate grandissimissima sì sì qui ho la cioccolata calda ciobar yeah che è buonissimo qui abbiamo queste cose molto belli molto carini il nostro fornetto che farà la magia della cioccolata e queste cose le olive molto buone e questo di mia madre ok se sentite abbaiare è Vladi il nostro coso di tipo un anno fa tantissimi mesi fa non so se ve lo ricordate il coso spray mio padre è molto sexy cioè non potete capire che schifo il mio pesce che l'altro è morto e ieri mio padre ha buttato per strada così senza buttarlo nella sua spazzatura vabbè molto bello ed era tutto ammaccato con uno schifo terribile ora prendiamo la nostra tazza non so se non stiamo dietro voglio questa questa è la tazza più bella del mondo poi se non sbaglio dobbiamo prendere il latte ecco mia mamma già l'ha preso oh mio dio bella è la mia aia va pen aia va apple poi mettiamo volevo farlo io aspetta 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 c'è questa cosa molto bella si ragge si ragge si oh ok disagio completo tutto si wow we are the champions sono ancora sporca di rossetto sono ancora sporca di rossetto buono che bontà finito ed è così yeah tutto cioccolato poi prendiamo il latte di mio padre della granarolo perché lui lavora alla granarolo pubblicità lo prendiamo e lo versiamo ok in un bicchiere di plastica tutto perché farla calda meglio fredda mescoliamo per bene e deve uscire così ci vediamo dopo sono già 8 minuti wow oddio la nostra cioccolata diciamo che è finita dobbiamo solo metterla nel forno a microonde solo che ora non mi va ok 9 minuti di disagio completo di questo video di sicuro l'avete levato ma chi ci sta ancora grazie allora siamo andati ad acqua e sapone andiamo con questi stupidi peluche perché non mi so vabbè stupidi peluche giorgi mi fai paura vabbè tutti i peluche stupidi tranne e cuscini tipo questo di dottoressa peluche molto figo come parlare da soli scherzo vediamo ora vi faccio un altro scherzo allora potete capire noi siamo andati ad acqua e sapone e abbiamo preso questi due a cuscinetti in omaggio allora allora non so perché qui ci sta pure la stampa di un altro cioè ci sta non so se vedete ma ci sta tipo chi l'hanno levato e hanno messo questo ci sta quello che ride e piange cioè che ride e gli escono le lacrime perché che l'hanno ucciso perché però mi voglio questo che avrebbe sempre cuore perché io sono pazza di cuori vabbè non so se sia senso pazza aia stupidi pattini di sole e luna sole e luna e niente mi piacciono i cuoricini poi c'ho questa oh molto bella molto 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 che sta a dire allora non vi lancio questo perché sennò ho paura che cadete quindi ragazzi è pronto allora e questa è bellissima quindi è bellissima sempre con il cuoricino che come un compagno quando glielo mando dice perché il cuore ma chi sei innamorato di me e io no che schifo uno sono fidanzata e due mi piace un altro diciamo che sto fidanzata diciamo e quindi è bellissimo e voi potete capire qual è il mio e qual è quello di mia sorella no non potete capire siete stupidi e forse nemmeno siete arrivati a questo punto quindi vediamo vabbè questo è il mio e questo è di mia sorella ma se mia sorella non gli piace e non lo vuole forse perché gli piace un altro questi è due miei intanto penso dove mettere questo questo qui carino carino lo metto qui e tutti gli altri ve lo uscio via morti bene ragazzi questo era il video di 12 minuti e 6 però non vi preoccupate non ho finito ci manca ancora un poco lasciate aspetta la mia cioccolata calda è uscita così ed è veramente speciale è molto molto buona di sicuro perché sto parlando spagnolo e qua questi erano tutti i cuscinetti mi ha colpito subito questo e questo non di sicuro no e quindi ecco vabbè come potete capire è buonissima di sicuro ma l'unica cosa è che aia vuole un sacco ma vabbè ragazzi questo era il video se vi è piaciuto mettete un like cioè spolliciate commentate e iscrivetevi al canale e condividete questo video su da condividete questo video con i vostri amici e niente quindi seguitemi seguitemi sui miei social che ora sono diminuiti musicali e musicali e snapchat però quello più schifoso del mio telefono che nemmeno trovo quindi vabbè quindi forse è meglio se mi seguite solo su musicali e l'altro musicali e vi lascio per la prima volta qui sotto in descrizione vabbè ciao oh mio dio che disagio iscrivetevi al canale